L'iniziativa nasce da una nostra idea che mira soprattutto nel rispetto delle nostre tradizioni. Quindi noi miriamo a far rinascere le nostre tradizioni e quindi la nostra versanità. Null'altro, non c'è nessun altro tipo di ingranaggio o cose del genere. Per fare questo chiediamo l'aiuto del nostro popolo e ipotizziamo che il ripristino della processione storica di San Paolo, così come era, possa essere l'inizio della rinascita del nostro territorio e della nostra versanità. Non c'è nulla di altro. Portare la vecchia tradizione aversa, perché se lo cerchiamo. Comunque già è una traccia di tutte le compreghe di Aversa, che hanno tutti adevito a queste iniziative, sono tutti disponibili a portare il proprio santo in processione. Ovviamente a spalla, per cui aspettiamo solo che Sua Eccellenza ci comunichi di aver deciso positivamente. Aspettiamo, penso che i primi giorni di gennaio lo decideremo in seno al nostro comitato. Ripeto che è un comitato volontario, autonomo, per cui ci incontreremo spontaneamente e decideremo un giorno per andare Sua Eccellenza. La cattedrale di San Paolo funzionava che il giorno precedente alla processione dei santi dalle rispettive concreche venivano accompagnati nella cattedrale. Il mattino successivo, dopo la celebrazione della messa, usciva in processione tutti i santi con le relative concreche in ordine di anzianità. In pratica la più anziana era quella che stava più vicina a San Paolo, quindi le prime erano le concreche più giovani e facevano il giro delle mura storiche della città. Per cui parliamo di via Castello, via Santa Maria della Neve, San Giovanni, fuori Sant'Anna, Costantinopolo, via Roma e rientra. Ovviamente ogni concreche apporta il suo santo e così si esplosiva la questione. E' prima di San Paolo, San Sebastiano, che è un altro santo di agendo, il protettore del capitolo. E' la famosa frase di Aversa, vedi i santi di agendo e finita la processione. Quando arrivano i santaggi la processione è fermata.